Ciao a tutti, sono sempre Greg e questo è il mio canale in genere horror. Slugs è un film del 2020 di Elsa Keffert, esce da noi solamente un paio di anni dopo sui canali Midland Factory, quindi direttamente in streaming. È un piccolo film che narra la storia bizzarra di un paio di Agents assassini. Infatti cosa succede nel film? C'è una ragazza che trova lavoro in una catena di negozi, un'importante catena di negozi dove sognava da sempre di entrare e che è una catena di negozi che vende vestiario e vestiti all'ultima moda. È diretto da un direttore che ha voglia e ha fame di scalata professionale e fa di tutto per poter riuscire a diventare il direttore generale regionale della catena di negozi ed è fatta comunque da elementi arrampicatori di quel tipo anche in altri colleghi. Alcuni invece sono scontrosi con la ragazza appena arrivata, la lasciano poi in disparte, insomma lei però entra in quella che viene definita dal direttore stesso una famiglia e che dovrà a questo negozio presentare un paio di jeans epocali fatto da un cotone speciale che si adegua alle taglie e che quindi può essere indossato da chiunque e dà delle forme meravigliose grazie al suo cotone che viene raccolto in una parte dell'India che si vede durante il prologo ed è da lì però inizieranno i problemi in quanto questo jeans si capirà e si scoprirà il perché vive di vita propria e si alza e comincia a fare mattanza all'interno del negozio. Perché? Perché il negozio verrà chiuso alla mezzanotte dopo che si è presentato addirittura il capo assoluto di questo marchio e che con le sue frasi pompose rimarca il fatto che il negozio è una grande famiglia, che loro sono equo solidali al massimo, che amano tutti quelli che lavorano per loro e per lui sostanzialmente e quindi accoglie tutti con grande entusiasmo, con frasi, con slogan che sono vuoti slogan ma che riescono un po' a far breccia sui creduloni e quelli che credono veramente che la vita sia fatta di simboli, di marchi, di oggetti esclusivi. Quindi il negozio a mezzanotte viene chiuso, rimane il direttore e gli addetti appunto al negozio per preparare il lancio la mattina successiva di questo esemplare di jeans esclusivo. Ci sarà solamente l'apertura per un'ora dove entrerà la famosa blogger di turno che dovrà fare la diretta, anzi non farà una diretta perché c'era tutto veramente isolato il negozio con proprio un vero e proprio lockdown come lo definiscono e quindi farà la compassata anche una famosa youtuber che registrerà poi il video e pubblicizzerà ancora di più il marchio. Il film è questo e quindi inizia come una sorta di trash, una sorta di piccolo film trash assurdo dove questo jeans comincia a fare mattanza e a far fuori tutti. Ha sete di sangue e si vede anche se in realtà poi qui cominciano i problemi. Intanto il film è un piccolo film quindi già dagli effetti speciali si vede che tutto è concentrato su un unico omicidio quello di un povero inserviente del povero commesso del negozio dove partono dita, mani e gole e gola e litri di sangue ce ne sono in abbondanza però è l'unico in realtà omicidio particolare. Poi colpa anche di scelte registiche non particolarmente azzeccate il film non ha grandi 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 coreografie negli omicidi se proprio vogliamo usare questo termine e che ci si aspetta da film bizzarri di questo tipo. Il film comincia così ed è anche abbastanza divertente anche se ripeto non non pesta molto sull'acceleratore ed è quello che ci si aspetterebbe dal film e forse motivo è questo cioè che a un certo punto il film vira bruscamente da tutt'altra parte diventa una denuncia sociale molto molto forte molto pesante molto diretta a quello che è il consumismo e quello che è lo sfruttamento del lavoro minorile della mano d'opera a basso costo per poi rivendere marchi prestigiosi a prezzi esorbitanti per la massa di persone che si accalca davanti alla vetrina che non aspetta altro che apre il negozio per per prendere per primi il modello che viene lanciato quel giorno e ci sta come come operazione ma a parte che i film su vestiti assassini già le avevamo visti mi viene in mente in fabric di strickland è già un ben oltre questo a livello visivo a livello di stile a livello di denuncia se proprio si vuole parlare di quanto siamo schiavi degli acquisti compulsivi e schiavi del marchio che viene lanciato in quel momento però senza far paragoni con in fabbrica che è comunque stilisticamente tutt'altra cosa è tutt'altro film questo film qui al certo punto vira bruscamente come dicevo cambia tono cioè diventa da quella che poteva essere ma non è mai una comedy horror o quello che poteva essere un trash ma non lo è mai utilizza questo questo espediente del jeans assassino che diventa quel punto ridicolo e mal posto quando si vuole fare poi una denuncia sociale vera forte e il film diventa un tedioso spiegone del motivo per cui esiste questo jeans del perché è impossessato di chi c'è dietro si comincia a parlare con questo jeans insomma per colpa anche di un montaggio molto pesante molto rallente che rallenta molto il ritmo del film che dura pochissimo ma sembra non terminare mai è questo il problema è una regia anche questa un po pesantina se priva di spunti è una sceneggiatura che vira sul ridicolo quando si vuole decisamente puntare l'aspetto sociale l'aspetto di critica e di polemica di critica pesante alla società consumistica diciamo che è già stato fatto meglio molto meglio da romero con i suoi zombie e diciamo anche che se utilizzi gli zombie che fanno paura allora il l'obiettivo è centrato se utilizzi un jeans che è da trash movie non riesce a centrare l'obiettivo quindi per quanto mio obiettivo non è assolutamente centrato e il film non è assolutamente né centrato né quadrato ripeto ci sono dei grossi problemi di pesantezza di montaggio che rende il film quasi insopportabile soprattutto nel momento in cui c'è questo spiegone infinito per cui è nato il jeans in questo modo si riallaccia un prologo che già faceva capire che cosa c'era dietro e non c'è bisogno di continui flashback con un montaggio che appunto pesante per farci ricordare che cosa c'è dietro viene ribadito continuamente lo stesso concetto più e più volte da dialoghi ripetuti e da situazioni ripetute va in secondo piano quello che è l'aspetto trash e l'aspetto splatter del film che ripeto poteva essere anche simpatico ed è un peccato perché la parte finale del film è anche la più riuscita rimanda un po se vogliamo anche se scomodare romero è fin troppo ma rimanda un po siamo in negozio la gente che si accalca insomma capite bene che cosa a cosa mi riferisco quando parlo di romero però è il riverente il ovviamente l'accostamento fra fra i due ecco questo è slacks che alla fine ha deluso mi ha deluso parecchio e l'avrei preferito completamente buttato di fuori con con lato splatter lato lato trash allora serve stato un film divertente se vuoi fare una denuncia sociale non già così forte il consumismo allora o vai direttamente come è stato fatto in fabbrica o fai direttamente un film alla romero ma ci metti gli zombie insomma io la vedo così in maniera abbastanza drastica ma se decidi di mettere in piedi in tutti i sensi un jeans che che ammazza le persone il fin diventa trash di per sé e non è più credibile quando punti su tutt'altro tra l'altro immancabili sequenze durante i titoli di coda che che spiegano gli effetti non si capisce neanche perché bisogna spiegare il perché il motivo per cui un jeans stia in piedi ovvio che c'è dietro uno con la tuta verde quindi anche spiegare questi trucchi non siamo ai livelli di mario bava quando spiegava i suoi trucchi e quello era era veramente grande grande sequenza nei titoli di coda e una sequenza finale post credit anche quella solite vederla ma c'è poco di divertente anche anche lì ecco però diciamo qualcosa qualche sprazzo quella di divertimento c'è ci sono pochi minuti buttati lì che insomma veramente poca cosa alla prossima